misifu non possiamo stare tutto il giorno sul divano dobbiamo fare un po di esercizio ma a me non va tatti non lo vedi che sono un gatto noi siamo fatti per dormire tutto il giorno forza misifu facciamo esercizio no 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 forza andiamo a metterci dei vestiti adatti ho detto che non voglio tatti devi farlo misifu brilla brilla stellina tatti e misifu avranno una bellissima tutina vieni andiamo inizieremo con un po di corsetta ma io non voglio penso di sapere come fare per farti correre misifu guarda che c'è dietro di te guarda una tartaruga wow sei stata super veloce misifu ora sono molto stanco misifu alzati cosa vuoi ancora tatti dobbiamo salire su quella collina ma io non voglio se non sali lassù mangerò il gelato tutto da sola gelato gelato iuppi non c'è più il mio gelato è lassù sto arrivando sto arrivando no non di nuovo questa volta non scapperà è davvero delizioso e ora dobbiamo attraversare il ponte andiamo misifu ma tatti questo ponte è rotto bene allora salteremo salta tu io me ne vado a dormire forza misifu ciao a tutti un serpente sull'albero cosa? un serpente sull'albero c'è un serpente c'è mancato poco e ora dobbiamo attraversare il fiume a nuoto ma io non so nuotare ma misifu per tornare a casa lo dobbiamo attraversare per forza oh non mi va a tatti perché non lo attraversiamo con una barca? no misifu ho un'idea migliore trasformiamoci in pesciolini che cosa? pesciolini? sì misifu in pesciolini brilla brilla stellina diventeremo dei pesciolini e faremo prima vieni è così bello tacchi guarda misifu laggiù c'è un granchio yuppie yuppie ottimo lavoro misifu sei stato molto bravo è stato divertente tatti qual è il prossimo esercizio tatti? niente più esercizi per oggi misifu sono stanca cosa? ora tocca a me vano ora fa mi vedere come corri qui? eh? uh? 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 uh?